abbiamo a posizione le siscia ma chi è vero c'è un modder che bello eccolo da qui no non ti voglio ammazzare io sto così sto così non tocco il joystick di fai una che ti seguo vediamo cosa vuole fare di aiuto due luogo allora se voglio lo posso portare in macchina con me questo bel mondo però voglio che guida lui vediamo accesso a veicoli a tutti scrivi vai vai entra in macchina entra in macchina allora guarda ora cosa faccio lui guida e io vado qua guarda perché spero che un mod quando guida di scrivi ai ua che modder ho anche lo scrivo devi scrivere al più modder e no hai scritto poi è tutto è tutto attaccato a view mod cosa ha scritto guarda ora guarda ora guarda No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.